Eccoci alla seconda puntata di Cronache da un altro mondo e questa volta ci ispiriamo ad un articolo apparso proprio il giorno di Capodanno sul Wall Street Journal a firma di un professore della St. Andrews University in Scozia che si chiama Phillips O'Brien e quest'articolo che adesso leggeremo almeno nelle parti più importanti pone una domanda già dal titolo ma Biden vuole che l'Ucraina vinca perché questa è una domanda che sta diventando sempre più preoccupante e nell'articolo si parte da una considerazione cioè che Biden ha stigmatizzato questi nuovi attacchi dei russi sulle città e sulle installazioni civili ucraine ha detto che Putin cerca di obliterare l'Ucraina e soggiogare il suo popolo e deve essere fermato questo linguaggio piuttosto deciso di Biden però si scontra con la realtà sottolinea l'autore dell'articolo perché mentre la Russia può colpire ovunque in Ucraina gli Stati Uniti hanno negato agli ucraini le armi che servirebbero per colpire obiettivi russi anche nelle parti dell'Ucraina occupate in particolare la Crimea quindi non si sta neanche parlando di armi che possano colpire il territorio russo efficacemente stiamo parlando di gli armi che servono per contrastare l'invasione e Biden sempre affermato che gli Stati Uniti rimarranno al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario però nota il professore O'Brien non ha mai espresso un chiaro obiettivo cioè che gli Stati Uniti vogliono la vittoria dell'Ucraina quindi che si riescano a liberare tutti i territori occupati e che dopo che ciò avvenga l'Ucraina diventi parte della Nato è sempre stato così un tema lasciato in una area nebulosa e quindi scrive il professore forse la riluttanza di Biden può essere spiegata solo in un modo l'amministrazione americana non vuole che l'Ucraina vinca e ci sono segni e cito verbatim l'articolo ci sono segni che l'amministrazione vuole forzare un sordido deal quindi un sordido accordo su Kiev in cui gli ucraini debbano cedere larghe parti del territorio inclusa la Crimea e la migliore evidenza di tutto ciò è il rifiuto dell'amministrazione spedire inviare fornire l'Ucraina di atmi effettivamente efficaci per colpire le forze di invasione russa. Roberto vediamo un po' più in dettaglio di cosa sta parlando il professore O'Brien. Il professore parla sostanzialmente del fatto che sono stati spesi circa 50 miliardi di dollari di armamenti di proiettili armamenti dell'Ucraina da parte degli Stati Uniti ma la fornitura è stata essenzialmente di artiglieria di raggio limitato e difensiva. Sui sistemi difensivi hanno fornito molto ma i patreons ma sono sistemi che non consentono di vincere una guerra consentono di difendersi così come gli armamenti a raggio limitato hanno detto agli ucraini di difendersi di impostare una buona campagna nel 2000, nella primavera dell'anno scorso, una buona campagna che ha consentito di riprendere alcune città e dei territori conquistati e ricacciare il Russia al di là del Dnieper ma non ha consentito al momento buono di vincere la guerra. Se noi associamo questo con i dati che possiamo avere dell'Europa dove gli stanziamenti sono stati estremamente limitati e dove il più prudente inizialmente dei componenti, cioè la Germania, alla fine risulta essere il maggiore, a parte i piccoli paesi dell'est che sono estremamente reattivi da questo punto di vista perché hanno conosciuto i russi e quindi forniscono quello che possono, però sono economie di paesi di piccole dimensioni, anche numericamente poco importanti come economie e quindi possono fare fino a un certo punto. La Polonia sta forrendo moltissimo, ma è comunque un paese che non ha capacità paragonabili alla Germania. La Germania che è il paese che inizialmente si muoveva con molta prudenza, centellinando gli aiuti, oggi risulta essere il maggiore contributore perché noi ci siamo tutti tirati indietro. Cioè da questo quadro risulta chiaramente una cosa evidente, non c'è voglia di vincere, è la squadra che non vuole vincere. Ha la potenzialità di farlo e non lo vuole fare. E Biden... Perché parliamo un po'... Biden è il cuore di questa cosa. Te ricorderai di Biden, abbiamo fatto una trasmissione che si ritirava dall'Afghanistan in maniera disastrosa, cioè non avendo la capacità di gestire qualcosa del genere. oggi pare più un calcolo, ma è sempre sulla stessa lunghezza d'onda, cioè vediamo di non impicciarci troppo e di... c'è la prudenza su questo. Adesso vogliamo parlare un po' del perché? Può essere utile perché è veramente... Questo è insomma importante da capire perché altrimenti le chiavi di interpretazione sono distorte. Facciamo un salto indietro. Vi ricordate quando anche in Italia si parlava di armi difensive e armi offensive? Questa era l'epoca del governo Draghi, chi era contrario all'invio di armi all'Ucraina diceva beh, ma noi possiamo dare solo armi difensive, come se un pugile entrasse sul ring, no? Con l'idea di difendersi dai colpi dell'avversario senza, diciamo, reagire. Allora, non si vincono né gli incontri di box, né le guerre in questo modo. Non esiste una guerra solo difensiva. Perché tu ti puoi difendere una volta, ti puoi difendere due, ti puoi difendere tre, poi a un certo punto chi ti attacca trova il punto debole nella tua difesa e vince la guerra. Così come il pugile a un certo punto riesce a tirare il colpo del K.O. Quindi... Perché la guerra condotta sul tuo territorio devasta il tuo territorio, devasta la tua economia. per forza di cose la fede ti distrugge. Esatto. Quindi, eh, questa idea delle armi solo difensive, ovviamente, eh, è un frutto della propaganda russa. E, ehm, nella estate del duemilaventidue, eh, gli Stati Uniti fornirono effettivamente, eh, gli I-Mars, no? Che sono sistemi di artiglieria molto moderni, molto precisi, ne fornirono pochi. Insomma, si parlava di dodici, sedici, forse venti. Comunque, sia pure con questo aiuto limitato, eh, grazie agli I-Mars, gli ucraini riuscirono a liberare Kerson e Karkin. E all'epoca dissero, se ci date sessanta sistemi I-Mars, noi possiamo vincere. Non dissero esplicitamente. L'amministrazione americana si rifiutò non solo di inviare i sistemi d'arma, ma di inviare le munizioni a largo raggio, perché, eh, quelle di cui dispongono gli ucraini sono munizioni che possono colpire obiettivi fino a cinquanta chilometri, grosso modo, eh, mentre ci sono gli Atakams, perché sono invece munizioni che possono arrivare fino quasi a trecento chilometri e quindi avrebbero potuto colpire sia il territorio russo, eh, sia la Crimea, dove c'è tutta la, eh, struttura logistica dell'esercito russo, incluso il famoso ponte di Kerch che, eh, lega, che unisce la Crimea alla madre, cioè, no, non alla madre patria, quella che, eh, Putin chiama la madre patria, ma che invece è il territorio russo. Ora, eh, che cosa è successo? Che anche altri, eh, aiuti sostanziali, per esempio gli F-16, eh, sono stati prima centellinati, poi se arrivate ad un accordo, sì, forniremo gli F-16, però bisogna prima, eh, addestrare i piloti, sì, manderemo i carri armati, però prima dobbiamo metterli a punto, insomma, la verità è una e una sola che emerge da tutta questa pantomima, che c'è una riluttanza non dichiarata, ma a volte anche dichiarata, perché, insomma, il capo di stato maggiore, eh, dell'esercito americano, delle forze armate americane, in più occasioni aveva detto, eh, ma gli ucraini non possono vincere, eh, ma stiamo attenti, eh, ma non ci impantaniamo, quindi anche nelle altre sfere che consigliano il presidente Biden, c'era questo atteggiamento disfattista. Comunque, eh, dicevo, quando eh c'è stata la possibilità di vincere, sostanzialmente gli Stati Uniti si sono tirati indietro, e questo è un fatto abbastanza evidente. Eh, nell'inverno del 2023, quando era importante aumentare l'impegno militare a favore dell'Ucraina, questo impegno invece si è ridotto. E che cosa è successo? Che si è dato il tempo all'esercito russo, che era frastornato dalle sconfitte subise, appunto, eh, a Kherson e a Kharkiv, di riorganizzarsi, di montare difese, eh, con campi minati, trincee, un po' stile Prima Guerra Mondiale. Ricordate, quella era l'epoca in cui un certo Prigozim, dopo le sconfitte subite dall'esercito russo, parlava di incompetenza delle altre sfere militari russe, insomma, attaccava Putin indirettamente per la condotta della guerra. Ecco, quello era il momento in cui si poteva infiggere il colpo finale o quantomeno un colpo eh ben assistato. Invece, si doveva, si doveva e eh invece di fronte alla possibilità veramente di vincere per motivi oscuri che adesso cercheremo di interpretare l'America e gli alleati si sono tirati indietro e quindi si è dato il tempo ai russi di riorganizzarsi e quando è partita l'offensiva, la controoffensiva come veniva chiamata nell'estate del ventitré, l'esercito ucraino eh eh si è andato a schiantare contro una rete difensiva molto ben organizzata che i russi avevano avuto mesi di tempo per preparare minuziosamente. Avevano avuto il tempo di mobilitare eh nuove truppe, avevano avuto il tempo di fare accordi con la Corea del Nord per le punizioni eh con l'Iran per la fornitura di droni non sappiamo bene eh quale è stato il ruolo della Cina ma sicuramente dietro le quinte la Cina ha aiutato eh la macchina bellica russa e quindi ci troviamo ora in una situazione in cui eh la guerra è in una fase di stallo e nessuno ha idea di come poter risolvere la situazione perché se si congela il fronte non è che la guerra finisce. Questa è l'illusione degli ingenui se si congela il fronte la parte più forte in termini di uomini di mezzi eh di potenziale industriale ha il tempo di rafforzarsi e poi quindi di riprendere le operazioni belliche con maggiore vigore ehm quali sono cioè parliamo un po' qual è questo eh non detto questo umore oscuro che impedisce all'occidente allargato di puntare a una vittoria dell'Ucraina e non di puntare diciamo a un pareggio che poi sarebbe una sconfitta. Il pareggio è una sconfitta ma il quadro è molto chiaro l'occidente è guidato da un vecchietto ed è massaia. Anche anche ammesso che ci sia il Churchill perché indubbiamente gli ucraini stanno brillando da questo punto di vista e la capacità di politica e militare e sociale che hanno veramente paragonabile a quello che l'Inghilterra fece nella seconda guerra mondiale ma ma anche la coalizione che allora consentì di vincere la guerra e non c'è non c'è perché è guidata da personaggi che non hanno lo standing la statura per poter oggi guidare all'occidente. Questa è la realtà. Noi abbiamo paura e penso che il motivo sia il timore che la Russia si disfi e che questo provochi dei problemi a non finire. Paura assolutamente ragionevole perché può succedere questo ma che va affrontata secondo me con un altro spirito perché comunque succederà perché la guerra non finirà se anche dovesse congelarsi sul fronte dov'è è soltanto... Putin ha dichiarato in maniera estremamente chiara ed esplicita che il suo obiettivo è tornare ai confini che aveva l'Unione Sovietica quindi i paesi baltici e tutti i paesi... l'Ucraina, la Bielorussia e possibilmente secondo me anche anche un appunto della Polonia, chiudere il corridoio che chiudisce Kaliningrad, cioè rifarsi quella rete di paesi satelliti che nella visione militare primitiva che i russi hanno cioè della conquista territoriale gli permette di avere un cuscinetto con l'Occidente. Questo significa inevitabilmente che prima o poi questa cosa risucchierà tutti noi, risucchierà gli Stati Uniti, risucchierà la Nato ma sicuramente l'Europa in una guerra che sarà catastrofica a quel punto. Quindi la guerra andava vinta l'anno scorso. Punto. E in conseguenza ci sarebbero affrontate. Che succede con il disfacimento? Anche dovesse disfarsi il potere russo, lo Stato. Cosa è già successo tre volte in un secolo? Nell'89 è così. Temevamo tutti che i russi disperati avrebbero invaso l'Europa vedendo perché non avevano da mangiare. Non è successo. Non è successo. No ma io mi ricordo che ero al Fondo Monetario Internazionale negli anni seguiti alla caduta del muro e al disfacimento dell'Unione Sovietica e anche allora era l'amministrazione Clinton, c'era Strobe Talbot che era il vice ministro che curava il dossier russo e est europeo e c'erano sempre continue pressioni sul Fondo Monetario. Bisogna aiutare la Russia, bisogna avere un occhio di riguardo. Eh ma volete per caso una guerra civile combattuta con le armi nucleari? Eh ma Russia non può disintegrarsi perché poi andremo incontro a chissà quali catastrofi? Ed è sempre questo argomento specioso che ispira e guida la politica estera e la politica di contenimento della Russia. Quindi è come se la Russia avesse una uno status speciale conferito gli dall'arsenale nucleare. Eh ma anche anche su queste armi nucleari eh chi 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 ripensando a quei tempi all'epoca davvero si temeva che il disfacimento dell'Unione Sovietica eh perché ogni repubblica aveva le sue armi nucleari. L'Ucraina in particolare che era il secondo esercito al mondo, il secondo potenziale nucleare al mondo e sembrava che queste armi incontrollate finissero al suberca sulle bancarelle dei vari servizi segreti e si temeva. Non è successo. Probabilmente gestire una bomba atomica è meno semplice di quello che sembra. Non è che si possa vendere a un gruppo terroristico. non è successo. E probabilmente è possibile impedire che questo succeda. Quindi è specioso questo come dici tu. È specioso questa amministrazione. La Russia va rispasta, va scucita e va messa in due volte disarmandola. Disarmandola vuol dire proteggersi, difendersi dei suoi attacchi e impedirle di nuovo di fare quello che sta facendo. Quindi di togliere qualsiasi velleità a Putin o a chi lo dovesse seguire, a chi gli dovesse succedere, di ritentare questo tipo di avventure militari. Cioè è questo il vero scopo della guerra in Ucraina e è questo il vero obiettivo che bisognerebbe perseguire nel sostegno all'Ucraina. Altrimenti ci concentriamo sull'albero e non guardiamo la foresta. E una Russia aggressiva, revancista, determinata a ristabilire il suo ruolo di superpotenza, è una minaccia per tutti noi. Per noi, per i nostri figli, che nel caso la Russia imbandalzita dal successo dovesse invadere l'Estonia, ecco in quel caso saremmo noi con le nostre truppe, in virtù dell'articolo 5 della Nato, a dover contrastare l'invasione. Quindi non stiamo parlando di ipotesi fantascientifiche, stiamo parlando di ipotesi concrete, peraltro evocate da Putin. Perché di sicuro Putin, una volta che riesce in questo colpo con l'Ucraina, anche prendersene solo un pezzo, di fronte all'inerzia dell'Occidente, non credo che si fermerà di fronte al timore che la Nato possa intervenire. Perché secondo me proverà a vedere se effettivamente la Nato interviene a sostenere un paese, la Lituania, due milioni di abitanti. Lo faremo davvero? Moriremo per la Lituania? Io ho dei dubbi che oggi, questa città alberghi nella mente di Putin, dei russi. Penso che loro pensino che alla fine riuscirebbero a prendersi Vilnius, a prendersi riga di nuovo, i paesi maltici. Cioè davvero una possibilità molto concreta. In prospettiva, non ho. E quindi la guerra andava vinta nel 2023. Le analisi militari che io sto leggendo, di persone competenti, di quelli che ci ascoltano probabilmente e vedono anche loro e seguono anche loro, dicono che andava la stessa cosa. Andava fatta nel 2023 e il motivo per cui l'Ucraina non ha vinto, non è riuscita a ricacciare i russi al di là dei confini, il fatto che non sono stati i dati di aiuti necessari. E questo è anche il contenuto della seconda parte dell'articolo con cui stiamo commentando, in cui si dice esattamente questo. Alla fine si dice che bisogna dargli armi a lungo raggio, bisogna dare armi, bisogna sostenere in maniera molto chiara e molto esplicita e decisa l'Ucraina. Missili esplicitamente di TACAMS, joint air to surface standoff missiles, munizioni più efficaci e in maggior quantità. Ma questo l'America. Poi arriveremo anche un po' a fare una chiosa sull'Europa. Tutto ciò che si è rivelato molto efficace per le forze armate ucraine è stato centellinato. Anzi, alcune cose, alcuni aiuti come ad esempio gli F-16 oppure i carri armati, in numero sufficiente per montare un'offensiva, ancora non si vedono. Tutta la saga dei leopard tedeschi è stata una cosa vergognosa. veramente un marchio di infamia e noi europei siamo stati quelli più infami di tutti. numero uno perché abbiamo dato solo fondi di magazzino all'Ucraina e sistemi d'arma dismessi che si stavano arrugginendo o erano già arrugginiti nei depositi. Poi abbiamo promesso un milione di munizioni di pezzi di artiglieria che non sono arrivati, sono arrivati solo in minima parte, nonostante la produzione bellica europea venga poi venduta a paesi terzi. Quindi un'infamia plateale. e se andiamo a vedere i dati dell'istituto, del Kiel Institute, che è un istituto, un think tank tedesco, che coglie i dati sull'aiuto all'Ucraina sia militare che finanziario e umanitario, sapete cosa rivelano questi dati? Che è un articolo, insomma, il rapporto è stato stilato a dicembre 2023 con dati fino a ottobre, alla fine di ottobre del 23. Insomma, tra agosto e ottobre 23, gli impegni degli alleati dell'Ucraina sono calati del 90% rispetto allo stesso periodo del 22. 90%. E allora è chiaro che la domanda posta da Philip O'Brien ha una risposta chiara cioè se ci chiediamo quanto l'America voglia che l'Ucraina picca? Beh, la risposta è l'America non vuole che l'Ucraina finita. Per questi motivi abbiamo cercato di ipotizzare ma il dato che emerge ancora più eclatante è che l'Europa non vuole che l'Ucraina naviga di fa perché prendiamo il caso italiano, no? Ci sono state tutte queste polemiche sul voto contrario dei 5 Stelle all'invio dei nuovi armamenti, l'astenzione del PD e insomma tutte le polemiche che ne sono nante ma andiamo a guardare qual è l'impegno dell'Italia l'impegno dell'Italia è ridicolo in termini di forniture militari secondo i dati del Kiel Institute stiamo parlando di meno dello 0,1% del PIL italiano cioè stiamo parlando di le mosine noccioline le mosine sì e buona parte di questi risalgono ai tempi del governo Draghi l'unica cosa che sembra abbia avuto una certa efficacia sono questi sistemi che produciamo anche noi italiani per intercettare i missili russi e sono sistemi abbastanza efficaci perché permettono diciamo di difendersi un costo una frazione dei costi dei Patriots dei missili lanciati dai Patriots e quindi sono molto apprezzati dagli ucraini ma di nuovo sono armi difensive non sono armi risolutive le armi risolutive sono quelle che permetterebbero di fondare tutta la flotta russa nel Mar Nero infatti i pochi successi registrati dall'Ucraina in questa fine del 2023 sono stati legati proprio a missili a sistemi missilistici che hanno permesso di colpire le navi russe alla fonda nel Mar Nero alla fonda con i pochi che cosa possiamo concludere su che nota possiamo congedarci Roberto in realtà è un momento di grande confusione non si sa bene che cosa pensare c'è questa incertezza sulle forniture che sta pesando tantissimo c'è la consapevolezza che l'occasione persa forse è stata determinante ma di sicuro non si può ripetere non si può pensare al 2025 al 2026 e tirarla avanti per le lunghe perché questo sarà sicuramente l'anno decisivo ci sono le elezioni americane con l'incognita Trump che pesa tantissimo io sono sempre stato ottimista sull'esito di questa guerra perché trovo che non ci possa essere dubbi sul fatto che noi ricaceremo la Russia temo che temo il coinvolgimento cioè non vorrei che ci volesse una seconda una terza guerra mondiale per ottenere questo tra l'altro queste elezioni americane pongono un grosso punto interrogativo sul futuro dell'Ucraina perché allora la vulgata dice che Trump non si impegnerebbe così tanto come l'amministrazione Biden che già non si impegna tanto di suo nel sostegno all'Ucraina quindi di fatto affiderebbe all'Europa il compito di vedersela nella guerra nel sostegno all'Ucraina e quindi nel contenimento della Russia e addirittura si paventa l'uscita dalla NATO dell'America quindi la disgregazione dell'alleanza che ha permesso di mantenere la pace per oltre i settant'anni e allora queste non sono ipotesi fantasiose tanto è vero che in America senatori repubblicani di grande esperienza e di enorme visibilità tipo Ted Cruz hanno presentato una legge che impedisca al presidente di uscire dalla NATO quindi non solo tra i democratici ma anche tra i repubblicani c'è qualcuno che ha subdorato questa possibilità questa intenzione e vuole scongiurare poi io non credo che Trump possa essere così folle da mettere in atto politiche di appeasement perché perché comunque l'opinione pubblica americana ha una certa tendenza a non farsi abbindolare dai discorsi pacifisti e un presidente che si cala le braghe diventerebbe un loser o comunque sarebbe esposto ad accuse virulente da parte delle opposizioni e da parte anche di grossi pezzi della società e dei poteri chiamiamoli poteri forti per capirci americani quindi non sarebbe qualcosa una decisione che potrebbe essere presa in cuor leggero l'America è un paese complesso e anche un presidente non ha tutte le chiavi per aprire tutte le porte ovviamente però 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 la Siria fu regalata in 24 ore sì sì ma la Siria l'americano media non sa nemmeno dov'è sull'Ucraina insomma un po' di consapevolezza è stata diffusa per cui per cui così come è successo alla presidenza Biden per il ritiro dall'Afghanistan un ritiro tra virgolette degli Stati Uniti dalla guerra in Ucraina sarebbe una macchia sulla reputazione del presidente chiunque esso sia è una macchia che pagherebbe in termini di consenso ora è vero che Trump non si potrebbe ripresentare ma comunque sarebbe una macchia che il partito repubblicano farebbe fatica a lavare tuttavia se già Trump dovesse mostrare un atteggiamento tiepido nel sostegno all'Ucraina quello potrebbe essere interpretato da Putin come il segnale per un'intensificazione del conflitto e quindi i rischi da qui a novembre sono altissimi e di questa consapevolezza dei rischi oggi in Europa non c'è traccia c'è la voglia soprattutto tra i governanti dei paesi maggiori di togliersi questo fastidioso problema di torno in qualche modo e tornare al trantran tornare a occuparsi delle elezioni europee di ambiente tornare a occuparsi di risparmio energetico di queste cose qui della compravendita di voti se vogliamo di lasciare il pelo alle varie congreghe che poi gestiscono il consenso a livello nazionale ecco di occuparsi di quello di cui sanno occuparsi senza doversi preoccupare di visioni strategiche di piani per il futuro di un'Europa che abbia la capacità per difendere i suoi interessi in tutto il mondo ma anche addirittura nel cortile di casa ecco questa voglia di normalità questo desiderio di fermare il mondo per scendere è un ancro che sta distruggendo non solo la reputazione dell'Europa a livello globale ma sta proprio distruggendo la fibra morale mi verrebbe da dire di noi europei che siamo soltanto interessati a un orticello mediocre è sempre più arido e non ci preoccupiamo né del futuro immediato né quello dei nostri figli ed è questo forse il dato più avvilente al di là delle intenzioni di Biden sulla sulla vittoria dell'Ucraina o della possibilità di Trump di uscire diciamo di portare l'America fuori dalla nave cioè dobbiamo guardarci noi all'interno guardarci dentro fare un'introspezione e chiederci ma noi chi siamo cosa vogliamo qual è il nostro ruolo di europei nel mondo e qual è il programma il futuro che noi immaginiamo per questo continente dalla storia illustre per quanto non sempre edificante ma dal futuro penoso patetico Sixtantibus Remus Bene Roberto ci conferiamo dai nostri spettatori e ascoltatori in questa seconda puntata di Cronache e da un altro mondo e per il momento vi raccomandiamo di iscrivervi al canale mettere un like aumentare l'engagement in modo da essere più visibili sul sull'algoritmo di YouTube e ti mando un grande abbraccio e abbraccio anche tutti coloro che sono stati così pazienti da seguirci finora arrivederci a tutti alla prossima per la prossima